ok così ragazzi il vostro diablo tex va avanti come un treno su questo titolo perché mi sta piacendo ragazzi quante volte ve lo devo dire che questo gioco mi sta veramente facendo perdere la testa mi piace mi piace mi piace allora qui le missioni si non ci sono più per il momento non ci sono più ragazzi quindi ora io direi che dobbiamo andare in questa direzione ne vediamo un po forse non è sicuro no ma ma non 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 ma non non Grazie a tutti Perfetto quindi possiamo Passare Possiamo passare ragazzi Attenzione Allora novità Qui ci sono delle missioni da fare Però vediamo un attimino E credo che bisogna iniziare da lì perché Non credo uscirà fuori Spunterà fuori qualcosa Andiamo lì e poi Ah qui sono 36 missioni ragazzi Quindi abbiamo di cose da fare Se riuscirò a sbloccarle tutte Ok Ok Ok, quindi qui spunta fuori Qualche missione Vai, iniziamo da questa ragazzi Iniziamo da questa Partiamo sul leggero Allora Chi posso selezionare? Vabbè, Meliodas Eh sì ragazzi Io Meliodas Va bene? Allora Vediamo un attimino Vediamo un attimino qui Allora 200 Sì, vabbè Il tempo qui avanza ragazzi Il tempo avanzerà Quindi Avrò anche tempo Di sfondare Qualche cassa Diciamo Per vedere un po' Di raccogliere Però Non vorrei Perder troppo tempo Perché magari poi Come si dice Non riesco a prendere Il grado S Perché qui Tutta una questione Di tempo E di tutto Insomma Per prendere Il grado S Da come ho capito Velocità Tempo Forse Non bisogna subire Molti danni Credo che sia una cosa Tutta unificata Ecco Vai Vai Meliodas Vai Fatti valere Fatti valere Che di tempo A disposizione Ora Ne abbiamo Veramente Tanto Ne abbiamo Veramente Tanto Caro Meliodas Eh sì Ecco Ne mancano 16 Ne mancano Ancora 16 Qui ragazzi Ancora Io non ancora Riesco a caricare Come si dice Il Diciamo La barra Per farla super Ecco Allora Dov'è Eccoli qui Eccoli qui Ragazzi Eccoli qui Vai Meliodas Grande Meliodas Come Bruce Lee Ragazzi E lui E lui Ottimo Mi garba Anche se quello E' più ban Più Che somiglia un po' A Bruce Lee Vabbè però Allora Vai Dai che siamo andati Su Vai Dammi il grado A Veloce 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 Qui perché Mi devi dare punti Su punti Grazie Please Vai Voglio il grado A Almeno Almeno il grado A Ciccio Senza scherzare Grado S Grado S Sì Così Mi garbi Così Così Grado S Ragazzi Grado S Vai Le dicerie Qui aumentano Si parte Con un grado S Magari Sarebbe Sempre così Bello Vabbè Allora Questo è interessante Sì Possiamo Proseguire Avanti Ok Grazie Grazie Allora 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 Lì ci sono Delle novità Di missioni Da fare Qui ce ne sono Veramente tante Ma veramente Tante Missione Secondaria Aggiunta Ok Vediamo un po' Che missioni Ci sono qui E allora E allora Divertiamoci Divertiamo Ok ragazzi Missione secondaria Dobbiamo salvare Elizabeth ok Vediamo un po' se riusciremo a salvarla Vediamo se riuscirò a salvarla Vai Vai che si combatte Vai che si combatte Io ho una voglia di combattere ragazzi Poi su questo titolo La voglia viene proprio di giocare Ad alti livelli senza tanti problemi Oh poi Nel vedere che ho più tempo A disposizione ragazzi Ah vabbè E' una cosa bellissima visto che ho messo l'abilità Di avere più tempo A disposizione è una cosa fantastica Allora vai Meliodas fatti valere Fatti valere anche se questo Vuol colpire abbastanza Pesante da come vedo Però Eh no mi dispiace ma non vincerai ciccio Non hai speranze di vincer contro Meliodas Non hai proprio speranze ciccio bello Eh no Le tue speranze sono meno di zero Eh sì Eh sì Vai che tra poco gli faccio anche una bella super La metteremo a segno Se continuo così Eh beh Sì che tra poco arriva la super E ci divertiamo E ci divertiamo ragazzi Uh la la E ora E ora mi diverto E ora mi diverto Beh battaglia conclusa Veramente in poco tempo ragazzi E' stata una battaglia Che c'è stato veramente poco da fare Per il mio avversario Il mio nemico Vabbè Ma va bene così Ok grado A Avrei potuto far qualcosina meglio però Per iniziare un grado A insomma Non è malvagio eh Non è malvagio Perfetto perfetto Ah si continua Si continua Senza problemi eh Veronica nee-sama Neliodas sama No, non è tu Ma Però Scusate Veronica nee-sama Io Tanto il mondo Mi riusco a rinforzare Il mondo Io credo Nuova missione principale Ragazzi Sì ma dove devo tornare parecchio dietro Questo non lo so Allora ma neanche ci interessa per il momento Perché noi adesso andiamo a far questa ragazzi Andiamo a far la missione secondaria Numero 26 qui Qualcuno ha degli avanzi Eh tanto è lui che vuol mangiare Quindi vediamo un po' Sì ma come si Allora ma neanche ci interessa Allora ma non è un po' 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 Sì, è vero. Ok ragazzi ora qui ci sarà da ridere Col maiale che cerca giustamente Gli avanzi da mangiare ma Non credo ne troverà molti Non credo ne troverà molti Vi dico la verità Vi dico la verità di come vanno le cose Comunque vabbè Vedremo vedremo Se sarà come dice lui oppure come dico io Ma tanto gli avanzi Non ne troverai allora Io qui devo distruggere Anche qualche cassa Devo distruggere qualche cassa per il semplice motivo Che Giustamente devo Come si dice ragazzi Qui devo Cercare di prendere il grado S Anche se la vedo complessa come situazione Però vabbè Vabbè La vedo un po' complessa Ma va bene così insomma Dai dai Posso farcela Io dico di sì Io dico di sì E tanto con il tempo Ci siamo 150 secondi Ancora per portare a termine la missione Vediamo un attimino Con questi cavalieri Con gli scudi Un po' più corazzati Diciamo Che Dovrei riuscire nell'impresa Insomma ecco Ok Ottimo così Mi piace Mi piace Questo gioco Inizia a piacermi sempre di più Io non so voi Però è È così È così Inizia a piacermi sempre di più Altri 22 Ne devo abbattere Maremma ragazzi Maremma Ne devo abbattere di più Vabbè Altri 18 Ma dai Non passano più qui Se col tempo Riuscirò nell'impresa Secondo me Qui Potrebbe esserci Anche un grado S Questo non lo so Però Per via del punteggio Che sto facendo Insomma Poi magari per il tempo Dovevo metterci un po' di meno Non lo so Adesso vediamo Adesso vediamo Però Secondo me Con Le abilità Che sto ottenendo Man mano Si semplifica un po' la situazione Voglio ben sperare Che sia così Allora Vai Vai Ne mancano 4 Vabbè Sì è finita la missione Ragazzi È finita Ottimo così Dai manca poco Manca poco Manca poco Ragazzi Manca Oh la la Oh la la Vai Missione completata Vediamo un po' Se gli bastano Questi avanzi Oppure no Io non credo Io credo che ne vuole ancora Poi Tanto non gli bastano mai A lui gli avanzi Ragazzi Ogni missione cerca gli avanzi Quasi Ragazzi, grado S, grado S Non ci credevo al grado S Però il grado S è arrivato È arrivato per il momento Per il momento è arrivato il grado S Vai, magari faremo un'altra missione Prima di chiudere il gameplay Vediamo È un po' di chiudere Ok ragazzi Autosalvataggio Vediamo un po' se posso creare Qualche nuovo oggetto Si ho visto che lì lampeggiava Ma lampeggia anche qui Quindi qualcosa si può Lampeggia anche qui ragazzi Ok vediamo se c'ho qualche altra cosa Da... no Purtroppo no non c'ho più Non ho più nulla Non ho più nulla da fare ok Allora si sono aperte nuove missioni qui Si novità si è aperta qualche missione lì ma Ok andiamo Dove andiamo e scopriamo Se quelle... ah ok perfetto Lui vuole scoprire tutto Meliodas Meliodas ragazzi Vuole scoprire il mondo Come si può ben vedere Allora vediamo Battaglia 11 l'ho fatta qui Si ho preso anche il grado S Va bene Allora vediamo un attimino Vediamo un attimino Da che parte possiamo Proseguire Anche se questa zona ancora apre Nulla Quindi credo Che sia Scusate Inutile andarci Credo che sia veramente inutile A quel punto Io sto facendo un giro Un attimo E qui Ok va bene così Va bene così Ecco qui sono aperti Dei nuovi villaggi Diciamo Dei nuovi villaggi Ragazzi Io andrei qui Però chiuderei anche il gameplay Missione principale Aggiunta al menu missioni Ottimo Allora ragazzi Anche se il gameplay è durato Un po' di meno Però Ci sentiremo con i prossimi Video tranquilli Perché Su questa serie Ne mancheranno da fare Ancora veramente tanti Un saluto come sempre A tutti Allo vostro Diablo Tex Lasciate un like Iscrivetevi sul canale Perché Dai Iscrivetevi Altrimenti non ha senso Che continuo a fare questi gameplay No ragazzi Sto scherzando Voi sapete che io Scherzo Sto scherzando Fate come volete Insomma Siete liberi Di iscrivervi Oppure no A vostra scelta Ci sentiremo con i prossimi gameplay Un saluto a tutti Appuntamento con i prossimi Video Mi raccomando Mi raccomando E mi raccomando Ciao a tutti Io vi consiglio di acquistare Questo titolo Perché veramente Ne vale la pena Poi Farete voi Ciao a tutti Alla prossima ragazzi Rock and roll